In questo momento non ho fiducia neanche nelle mie capacità Ma per il semplice fatto che non siamo preparati Non abbiamo le persone che mi servirebbero e siamo con degli strumenti inutili Per salvarti Chitta conna Non è vero perché ci sono ancora io Esatto Non sei libera quindi? Chiedi 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 Piena di ombre, odio, cattiveria E' per questo che deve scomparire Per il bene del mondo E' per questo che ti sei nascosto Non te lo permetteremo però Per non far decidere qualcun altro Esatto Vieni allora Vuoi fare a botte? Vieni Combattiamo Con tutto quello che mi è costato Fa' questa strada poi Eh esatto Wow, che spessione Colui che ha dissipato il velo della nebbia Perchè ho il dubbio se una battaglia ha più fasi Bel colpo Bello Comunque Resiste al fisico e riflette Gli stachillo ovviamente Marie Livello sconosciuto Abilità pure Beh Beh Che tu lo voglia o meno Noi ti salveremo adesso Grazie a tutti Brava Brava Bellissimo Questo è stupendo Che è anche diversa la musica E' più violino Bellissimo Che è anche diversa la musica Che è anche diversa la musica Che è anche diversa la musica Caboomba Giusto Ah ci era atterrata Ecco perché non li ho fatto fare Aspetta Allora Chi fra Lui e Surt fa più danno Al momento Surt 63 E' nel 58 Ok Continuiamo con Surt Allora Ragnarok Tu tesoro bello Frenesia del drag Ti costa una marea di Stracca di punti però Bellissimo Brava che tu sei concentrata Poi Megidolan 612 Non è molto Non è poco Bellissimo Sta versione Della canzone Della musica Riflette tutto il magico Si Beh Sei passata Alla resistenza fisica Questo non mi ferma Comunque Shitsune Abilità Abilità Carica Abilità Carica Persona Non so se Megidolan Ce lo conta Come Attacco Magico Proviamo Ok Ok lo blocca Era giusto Era giusto provarlo Dio mio Dio mio Vabbè Assautobi Così la vediamo Così la vediamo anche per la prima volta Belli sono gli scudi Quelli della polizia Questi Vieni allora Marie sta perdendo la voglia di combattere Ok Quindi a metà vita Perde la voglia Ecco perché sapevo che sarebbe stata due fasi Nero certo Bacca mitai Bacca mitai Eh E se lo dice lor sotto Wow Wow Persino Teddy è riuscito a dire qualcosa di sensato Troveremo una soluzione E se lo dice musica scomparsa dolore è la nebbia che sta uscendo non è vero e lo sai da oggetti di ricordi di luoghi felici da me da io C'è sicuramente un altro modo C'è un modo per farcela? E se lo sconfiggiamo? C'è sicuramente un po' C'è sicuramente un po' Non ho capito Ma... potrebbe poter farlo Prima di prendere il cuore, prendere il cuore E' sicuramente il cuore Ma... Non c'è ancora il cuore E' sicuramente... E' esatto Cioè comunque stiamo attaccando te Non... La mente... Sì è forte però Ti salveremo Non succederà tranquilla Vinceremo noi Facci che mi si siano ricaricati Per esempio C'è un po' C'è un po' Che per esempio Che è un po' Un po' Cotterà Sì, sì. Bene. Siamo senza SP. Allora. Oggetti. Ah già. Speriamo che ne valga la pena. Ho dovuto usare i semi su C. Perché almeno possiamo usare potenziamento su tutti. Ma dobbiamo sperare che ne valga la pena. Yukiko. Non dobbiamo sprecarla troppo. Effettivamente avrei dovuto controllare. Riflette tutto. Ok. Quindi finché ha gli occhi chiusi non possiamo fare nulla. Anche tu. Caricati. Tu. Concentrati. Ah ce l'ha già attivo. Che scemo. Allora niente. Proviamo lo scudo. Vediamo se ci può aiutare. A saperlo prima col cavolo che lo usavo al turno prima. Quando la battaglia non aveva senso di essere usata. Guardia. Eh cosa posso fare? Nulla. Al momento non posso fare nulla. A meno che. Proviamo. Non so se continuare a pararmi può servire a qualcosa al momento. Non mi rimane nessuna idea al momento. Provo ad attaccarla. Che sono l'unico che può farlo al momento. Perché sono l'unico che resiste. Ci deve essere qualcosa che sto missando. Certo che c'è qualcosa che sto missando. È ovvio che sto missando qualcosa. Lo spacca cose. Fuoco, ghiaccio e tutto il resto. Ecco cosa stavo missando. Usiamo anche quello di ghiaccio. Almeno possiamo attaccare anche con lei dopo ma. Ecco cosa stavo missando. Dannazione. Stupido. Non ci avevo pensato. Attacco ristabilito ovviamente. Quindi essendo ora debole. Al fuoco. Mi concentrerò anche io. Ti sparo un Ragnarok dopo che vedi. Cie mi dispiace. Ma devi usare questi attacchi qua. Però per il momento. Questo. Per il momento questa è la cosa migliore che puoi fare. Ancora. Concentrazione. Detali ardenti. Detali ardenti. Uh bello. Ci ha rubato gli SP stronti. Sta cedendo. Eh ho visto. Detto ciò. In teoria. La resistenza al fuoco ancora è abbassata. Giusto? 1798. 1898. Ottimo. Brava. Certo. Ma buco non è il meglio che possiamo fare. Meglio che niente. Aghi. Dai. Dai che ce la fa. Dai che ce la facciamo. Soprattutto con Yukiko caricata. Voglio dire. Pensavo di dover aspettare un qualche tipo di cosa da fare. In realtà era stupida la cosa. Dovevo usare l'abilità per gli oggetti per togliergli la difesa. Terza fase. Brute. Eh bravo. Mari-chan! Mari-chan! Oi 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 o! Oi 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 oi. Do nonadesa senpai? Do nonadesa? Respira. Credo. Marie non si muove No no Ora si riprende tranquillo La cosa bella è che in questa scena Persino lo scherzone di Teddy In questo momento Non dà uno fastidio a nessuno Ma soprattutto sta cercando di convincere se stesso Tanto sicuramente Viva Cliché dei cliché Però è triste Ora gli dice sei fastidioso Ovvio Ecco Buongiorno Fiorellino Grazie Oh Eh lasciala in pace Appunto Che carina Sta crollando il posto Questo posto non ha più motivo di esiste Perché lei non ha più motivo di morire Ovviamente Oh no Oh no Ci servirebbe un gatto Che si trasforma in macchina adesso Sarebbe molto comodo Ma Io so che Ah no Beh non abbiamo la roba da Da sci è vero Urca miseria Camaro comunque Non riuscire a fare questo dungeon In generale deve essere veramente frustrante Vuol dire essere arrivati a questo punto del gioco E non essere comunque Integrati No Adesso dice la frase tutta unita Tipo morite tutti quanti pezzi di merda Ecco appunto Non ce n'è bisogno Non ce n'è bisogno Ma d'altro Ma d'altro non neanche questo urso Lo è quindi Il resto non importa Che da mani Ma eccola E ti fareva Oh no E la cosa bella è che io in realtà sono fidanzato con quella accanto In realtà anche con lei Andiamo a dare i soldi a taglia Arigato Andiamo allora Bentornata Si chiama così l'achievement Qualcosa non va sta bene Ancora preoccupata Beh sicuramente questo non è stato Degno di un Maruki Non è stato un boss extra di una parte extra di una storia Così eclatante Nonostante sia bello Ma ci deve essere ancora qualcosa C'è qualcun altro quindi E lo sapevo che qualcuno tirava una palla di neve Lei di un giubbino Tutte le femmine contro i maschi Giusto Giusto non esagerare Perfetto Ecco Lo sapevo Ma scusami ma Mi ha tirato un Rasengan In faccia qua Vi godete la battaglia di neve più tardi quel giorno Hanno tutto il raffreddore perché non si sono coperti Oh le terme Madonna mia Quante sono grosse Adesso vanno lì a toccarla Eccola Ti pareva Orca trovi al collo Che è successo Che è successo E' come lo spieghi che è arrivato un fulmine lì poi Oh Tornato Hai scordato Maria alla stanza di velluto E sei tornato a casa Ehi fratellone Ti piacciono i dolci Non c'è motivo se te lo chiedo così Ieri oggi mi sei sembrato parecchio indaffarato E' successo qualcosa sulle piste da sci Che succede? Si sente puzza di bruciato Per caso ti ha colpito un fulmine? Qualunque cosa ti sia successa Sembri davvero felice Beh sì Che succede?